Per le opposizioni la misura è colma, l'UPI si deve dimettere. Movimento 5 Stelle e Sinistra, Ecologia e Libertà presentano una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro perché, a prescindere da eventuali responsabilità penali, sostengono, i fatti minano la sua credibilità. Le sue dimissioni dovrebbe chiedere l'erenzia per Mascotto, capoluppo di Sel che sollecita l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla TAV e del 5 Stelle di Battista Attacca. La maggioranza non dovrebbe difenderlo. Lupi non si può difendere, è proprio oltre uno che difende un arrestato come in calza, passato per 7 governi differenti in questo modo, che non si dimette lui. La responsabilità politica è tutta in mano a Renzi. Dal blog Grillo rincara la dose sparando a pallettoni sia su Lupi che su Alfano, contro il quale, peraltro, la Lega presenta un'altra mozione di sfiducia per la sua responsabilità.